Cause della calvizie. La caduta rapida dei capelli chiamata anche alopecia può essere provocata da tantissimi motivi diversi. Alcuni ad esempio l'hanno ereditata, quindi è la questione della genetica, perciò non si può fare niente. Per fortuna, sono pochi gli uomini con questo problema. Invece, coi molti il diradamento della chioma è posto causato dall'impaio negativo di tanti fattori esterni ed interni messi insieme. E per sapere scegliere un rimedio giusto per curare la calvizie maschile bisogna prima identificare questi fattori e cercare di eliminarli. Esterne la causa principale dei problemi dei capelli nel quasi 90% della popolazione sono le condizioni disastrose dell'ecologia di oggi. Il nostro organismo si riempie di continuo con le tossine, respiriamo l'aria inquinata e beviamo la non completamente purificata. I prodotti alimentari non sono sempre di qualità migliore, e poi pochi seguono una dieta varia ed equilibrata. Inoltre, spesso noi stessi aggraviamo il problema aggiungendo degli altri fattori negativi, una cura sbagliata e non regolare, il shampoo di qualità bassa, senza maschere per capelli, rasatura a zero frequente, per disidratazione cronica le radici dei capelli. Ricevono delle sostanze nutrienti solamente diluite, e se c'è poca A, la chioma si indebolisce e si se, vizi diversi, quali le sigarette ed alcol non solo intossicano l'organismo ma pur distruggono la circolazione regolare del sangue e privano le radici. Del nutrimento completo, mancanza di sonno e stress possono essere dei fattori psicosomatici della calvizia ed anche una causa dei cambiamenti ormonali, assenza dei copricapi in caso di maltempo, freddo, trovento, sole forte che rovinano la struttura del capello. Ed ha un impatto negativo sul benessere del cuoio capelluto dove si trovano i follicoli piliferi, capelli non ad aglio oppure sempre messi nelle zone della loro aderenza troppo forte alla pelle a causa dell'attrito s'allentano e si indeboliscono le radici colorazione. Frequente è vero che gli uomini pur tendono a tingere la canizia anche se cercano di nasconderlo, e spesso lo fanno nel modo sbagliato. Fino ad una certa età spesso sarà sufficiente sbarazzarsi dai fattori esterni negativi per fermare la calvizia e con il passare del tempo la chioma ripristinerà il suo benessere e la foltezza interne quello che riguarda i fattori interni che provocano la perdita dei capelli, risulta molto più difficile identificarli ed eliminarli. Di solito bisogna fare delle visite dagli specialisti e degli esami diversi. Tavia, se avete preso dei provvedimenti necessari per togliere l'impatto esterno, ed i capelli continuano a cadere, li dovrete fare. Altrimenti sarà impossibile capire quale rimedio utilizzare per curare la calvizie. I medici considerano che i problemi interni seguenti causano più spesso la caduta dei capelli, i disturbi ormonali causati dal malfunzione del sistema endocrino oppure dalla somministrazione dei farmaci ormonali, le malattie del cuoio capelluto infettive e non infettive, i traumi gravi della testa che provocano la formazione del tessuto cicatriziale, l'intossicazione forte e prolungata, ad esempio, a causa dell'ambiente lavorativo dannoso per la salute, l'impasto aggressivo del trattamento delle malattie oncologiche, quali la chemioterapia oppure la radioterapia, le patologie croniche dei visceri, reni, fegato, malattie sistemiche del sangue, i disturbi neurologici, depressione, insonnia, attacchi di panico e, eccetera. I problemi gravi con la digestione di conseguenza l'organismo non riceve una quantità sufficiente di sostanze nutrienti vitali. In questo caso la cura deve essere prescritta dal dermatologo-tricologo. Essa deve essere complessa con l'accento sulla cura della malattia principale, e per i capelli, invece, il medico prescrive una terapia preventiva e ricostituente. Per il trattamento dei disturbi neurologici bisogna rivolgersi ad uno psicologo clinico, in quanto è praticamente impossibile riuscire a farlo da solo o sopprato nella fase finale o trascurata. Tipi e sintomi Gli uomini si preoccupano di più delle donne della perdita dei capelli, la loro reazione è più emozionale e morbosa. Dall'altra parte è più remeglio, perché prima si accorgeranno del problema e sarà molto più facile risolverlo nella fase iniziale anziché quando si vedranno ormai le zone calve evidenti. Tuttavia, non c'è bisogno di andare in panico subito. Vi potete cominciare a preoccupare quando la quantità dei capelli caduti supererà una cifra di 100-150 al giorno. L'alopecia si divide in tre tipi principali, gli areata si formano delle zone diradate ben definite, possono avere una forma irregolare. Diffusa è più difficile da identificare nella fase iniziale, in quanto i capelli cadono nel modo irregolare su tutta la testa. Totale qui è to ovvio, to la quantità dei capelli diminuisce drasticamente e dalla fine to la testa rimane calva. La calvizie graduale nei uomini provocata dal contenuto elevato degli ormoni maschili nel sangue si chiama l'alopecia androgenetica. In questo caso si formano e poi s'allargano le aree diradate situate nelle zone temporali, nella sommità della testa ed i capelli. Rimangono solo nella parte posteriore intorno alla nuca. Questo tipo di alopecia al solito si manifesta dopo 30 anni, tavia, negli uomini geneticamente predisposti può capitare anche prima. Rimedi per la calvizie. La medicina moderna ancora non ha inventato un rimedio perfetto capace di fermare la calvizie per sempre. Non esiste nemmeno una pillola magica che faccia ricrescere una chioma caduta. Tutte le promesse simili dei produttori non sono niente altro che un trucco pubblicitario dei quali purtroppo alcune persone ancora si fidano. In realtà potrebbe funzionare solo un rimedio oppure un metodo che sia in grado di combattere la causa della calvizie oppure stimolare la crescita dei nuovi capelli. Perciò è consigliabile iniziare la terapia dell'alopecia dalla visita dal tricologo sopratto in un caso trascurato. Con un dispositivo speciale lui esaminerà il cuoio capelluto per avere la possibilità di determinare la quantità dei follicoli piliferi attivi, dormienti e morti. Questi ultimi sono impossibili da ricostituire qualunque cosa cerchiate di fare. Nemmeno sarà possibile far crescere i capelli nuovi nelle zone delle cicatrici. Invece, il compito principale sarà di migliorare il funzionamento dei follicoli attivi e svegliare quelli dormienti. Farmaci oggi i farmaci più efficaci sono quelli che contengono la sostanza che si chiama il minoxidil, ad esempio, toloxidil, regaine, e minoximen, eccetera. Questo elemento è un vasodilatatore, migliora la mircocircolazione del sangue ed il nutrimento all'interno delle cellule e grazie a questo stimola la crescita dei capelli. Allo stesso tempo esso riduce notevolmente il contenuto di didrotesterone, un ormone che provoca l'alopecia androgenetica, e di seguito si ferma il diradamento rapido della chioma. Però, nemmeno questo rimedio per la calvizie maschile è perfetto in quanto è efficace solamente per curare l'alopecia nella fase iniziale oppure intermedia. Perché i risultati della cura siano regolari bisogna prendere il farmaco seguendo il foglio illustrativo per almeno uno a due mesi, dall'effetto si vedrà solo dopo quattro a sei mesi. Tuttavia, appena completate il corso del trattamento, l'alopecia potrà colpire di nuovo se non sono state eliminate le sue cause. Le medicine con il minoxidil hanno delle controindicazioni numerose anche se vengono vendute senza la ricetta. Esse sono controindicate nei casi seguenti. Gravidanza ed allattamento, insufficienza cardiaca e renale, ipertensione del 2 a 3. Grado problemi seri cardiaci, malattie oncologiche ed autoimmuni. Immunico aio capelluto non integro, ipertensione polmonare del 2 gradi. Dopo l'infarto e l'ictus, ci sono anche i rimedi completamente naturali sulla base degli estrai vegetali e oli benefici. La controindicazione principale per questi prodotti è l'intolleranza personale per uno dei componenti. Ma anche l'effetto dell'applicazione sarà più debole, in quanto il follicoli piliferi non verranno stimolati profondamente. Nel caso dell'alopecia provocata dalle malattie croniche bisogna somministrare più rifarmaci destinati a curarle. Solo il medico può prescrivere la terapia dopo avere ricevuto il risultato delle analisi di laboratorio. Non praticate mai l'automedicazione. Procedure professionali per cercare di curare la calvizie si possono provare i trattamenti nel salone. Essi devono essere divisi nei corsi di 3-10 sedute. Il risultato di solito si vede già dalla seconda terza settimana della terapia, da LF dura da alcuni mesi fino a 1 a 2 anni. Indipendentemente dal tipo di alopecia e dalla diagnosi dalla parte del tricologo gli specialisti consigliano spesso le procedure seguenti e terapia sull'apparecchio d'Arsonval. Rappresenta l'azione sul cuoio capelluto della corrente debole ad alta frequenza. La procedura più semplice, economica ed innocua che si può effettuare anche a casa. C'è anche un effetto supplementare cioè ionizzazione ed ozonizzazione del cuoio capelluto, eliminazione dei microbi patogeni. Massaggio con microcorrente. La corrente alternata debole stimola l'attività dei follicoli piliferi, accelera i processi metabolici e la crescita dei capelli. Se il cuoio capelluto è stato trattato con un agente per fortificare le radici, quest'ultimo penetrerà molto più profondamente grazie all'impasto della microcorrente. Crioterapia. Il trattamento delle zone diradate con l'azoto liquido. Gli sbalzi forti di temperatura sono gli stimolatori naturali più potenti che sono in grado di migliorare il sistema immunitario. Attivare la circolazione del sangue, svegliare i follicoli piliferi dormienti. È un metodo efficace di infoltire la capigliatura. Trattamento laser. Il metodo più costoso però molto efficace per non solo accelerare la crescita dei capelli ma anche per migliorare il loro benessere. Il laser agisce direttamente sul cuoio capelluto e sulle radici stimolando i processi della rigenerazione sottocutanea. Vamonoterapia. Di solito viene realizzata sulle zone completamente o parzialmente calve ai fini di stimolare la crescita dei nuovi capelli dai follicoli piliferi dormienti grazie al flusso del sangue più forte. Il trattamento è efficace anche nel caso dell'alopecia androgenetica. Se nessun metodo funziona il cosmetologo vi proporrà il trapianto dei capelli. Le tecniche moderne permettono di effettuarlo abbastanza velocemente o in modo praticamente indolore e con un rischio minimo di infiammazione o rigetto. L'unico problema è che se comunque le cause per l'alopecia sono interne e non sono state eliminate e i vostri capelli nuovi dopo un po' cadranno. Metodi casalinghi per qualche motivo alcuni ancora non credono nell'efficacia dei rimedi popolari contro la caduta dei capelli negli uomini. Tavia esistono delle ricette usate già da molte generazioni che risultano veramente efficaci. Certamente soltanto nel caso in cui i follicoli pipiferi non siano ancora morti e ci sia la possibilità di revitalizzarli. Qui sotto troverete alcune di queste ricette collaudate nel tempo. Decoi di erbe. Gli sciacqui quotidiani dei capelli coni decoi alle erbe quali la calendulata erba di San Giovanni Tossi la gine comune coni di lupolo, camomilla, sono ottimi per fortificare le radici e migliorare notevolmente il benessere della chioma. Versate mezzo litro di acqua su due cucchiai di erba sea e fatela bollire per venti minuti sul fuoco lento, oppure lasciate in infusione per una notte nel termos. Massaggio con il sale marino. Funziona come un peeling delicato e dallo stesso tempo nutre la chioma con dei microelementi pregiati. Accelera la crescita dei capelli, purifica la pelle dalle cellule morte, tiva la circolazione del sangue. Su un cucchiaio di sale marino fine versate 50 millilitri di olio naturale, come ad esempio quello di oliva, bardana o ricino. Lasciate in infusione per 2-3 giorni, agitate bene prima dell'uso. Applicate il rimedio sulle radici massaggiando delicatamente per 3-5 minuti, lasciate in posa per mezz'ora, dopodiché lavatelo via con lo shampoo. Non è a dose ci sono delle lesioni sul cuoio capelluto. Maschera al miele e cipolla. L'unico suo di feo è un odore specifico che rimane sui capelli per qualche ora. Però per il resto questa è una vera ricea del lisir di lunga vita per i capelli indeboliti. Mischiate un chiaio di miele con un cucchiaino di cognac e la stessa quantità della spremuta della cipolla bianca. Lasciate in posa per 20-30 minuti e lavatela via con l'acqua tiepida senza shampoo. Ci sono anche altre ricerche semplici e benefiche. La maggior parte contiene degli ingredienti con l'azione stimolante per il cuoio capelluto quali il peperoncino, la cipolla, l'aglio. La cannella quindi non si possono applicare sulla pelle danneggiata. Prevenzione della calvizie. Per evitare di combattere l'alopecia già da giovane prendetevi bene cura dei vostri capelli. Seguite questi consigli semplici che vi aiuteranno a preservarli sani a lungo e prevenire la calvizie. Utilizzate solamente gli shampoo e balsami di qualità, arricchiti degli estranei vegetali, vitamine ed oli naturali, non uscite fuori senza copricapo nelle. Caso del maltempo, vento forte, pioggia, gelo, non rasate la testa troppo spesso, in quanto le lamette traumatizzano il cuoio capelluto ed indeboliscono le radici. Non fatevi la doccia con l'acqua troppo calda o fredda, la temperatura deve essere più o meno simile a quella corporea. Selezionate correttamente i copricapi devono far passare bene l'aria, deve essere igroscopici e non stringere la testa. Le code di dreadlocks fai spesso rovinano i capelli ed indeboliscono le radici. Seguite una dieta sana ed equilibrata e prendete regolarmente delle vitamine. È consigliato prendere l'abitudine di farsi un massaggio della testa ogni sera. Questa procedura non solo fortifica i capelli ma aiuta anche ad eliminare lo stress, favorisce il sonno tranquillo, migliora le difese immunitarie. Grazie alla cura correa e delicata i vostri capelli rimarranno folti e sani per tanto tempo.